Scusate, ma che cos'è questo bug del cavolo? Cioè, analizziamo bene, siamo fermi e... C'è questo tizio... Cosa sta facendo questo tizio? Guardatelo! Mi muovo un pochino, aspetta, mi muovo... E lui continua a fare il piccio, così... Cioè, non è possibile! Perché la traccia va in un mese? Aspetta! Non è qua! Guarda lì, cosa fa? Guarda, cosa fa? Cerca di entrare nella porta che chiude! Come vai? E poi va sul muro, cerca di compenetrare la porta, non ci riesce... E poi dopo il progettore è andato in fangelo, come si succede in Italia? Ma guarda che... E guarda che è veramente folle, eh! È veramente vero! Mamma mia! L'Italia sta facendo un cazzo a tutti! L'Italia è in rovina e ci sono questi bug enormi... Ma... Ma... E comunque no... Comunque non va bene! Sono... Sono alibito da questo... Da questa situazione qua... Da questa situazione? Ok... Eh... Continuerà all'infinito finché io non entro... Finché io non entro nell'ascensore lui continuerà... All'infinito... Sì... Fare questa troiata qua... Sono alibito finché io... Eh... E comunque grandissimo... Grandissimo errore... E' certo! E' bug! Nole! Poi... Vediamo le cose come funzionano... Eh... Questa cosa... Questa cosa funziona un po' male... Boh... Ed è tutto, no? Basta! Grazie! Grazie, Alan!